E' partita la 61esima mostra nazionale del tartufo bianco con centinaia di visitatori che hanno follato le vie del centro di Sant'Angelo in Vado e la piazza dedicata a Re Tartufo. Un primo weekend in cui sono stati anche segnati i primi due premi Tartufo d'oro che sono andati a Tommaso Mazzanti dell'Antico Vinaio e al bartender campione del mondo Bruno Van Zan. A dare spettacolo in golosire la piazza ci ha pensato invece la frittata al tartufo da Guinness dei primati con oltre 700 uova e 6 kg di tartufo nero versati in una maxipentola per una frittatona che ha anticipato le specialità gastronomiche di cantine e ristoranti. E' un evento importante per tutto il territorio, siamo la prima mostra nazionale del tartufo bianco pregiato per longevità delle marche e la seconda in Italia, quindi un bellissimo traguardo. Noi siamo una mostra del tartufo, quindi essendo mostra vuol dire che noi ci siamo voluti declinare oltre a omaggiare il prodotto del tartufo ma anche mostrare un territorio, mostrare quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità. Quindi qui a Sant'Angelo venite perché potrete trovare tanta gastronomia, tanto tartufo, fortunatamente finalmente è un anno che promette bene dal punto di vista produttivo, ma potete venire anche a vedere le bellissime chiese che abbiamo, le tante mostre che vengono allestite solo per questo periodo e anche non dimentichiamoci la Domus del Mito che è un ritoramento archeologico tra i più importanti gli ultimi 50 anni. La festa del tartufo incomincia oggi ma poi andrà avanti fino al 27 d'ottobre, il 3 di novembre abbiamo la fiera solo merceologica, quindi la fiera, adesso una San Nicola un po' più piccolino ovviamente, il paese più piccolo, ma abbiamo tante altre cose da fare, prossima settimana il motraduno, poi il 26-27 la giornata dedicata ai marchigiani e poi vediamoci a Natale perché a Natale rassegne d'organo, mercatini natalizi e quant'altro. Venite a Sant'Angelo perché comunque c'è sempre qualcosa da fare e da vedere.